ehi salve a tutti ragazzi abbiamo in questo nuovo episodio di Final Fantasy Remake e qua credo che continueremo con la storia e qui c'è un tizio we've got to save him Cloud is he Avalanche no Ok Andiamo ad aiutare Giordi che è stato catturato dalla scena Come on Allora, andiamo più vicino. C'è una forma di trattare un modello di migdar? Modello di migdar non prendono l'agente di blasto! Quindi non ti chiedi a me, perché il vostro ID ha fatto quando stavamo attraverso le luci? Eh? Mi ha fatto tutto sbagliato! Non c'è più vicino a un prodotto Xenra! oltre a dire, dobbiamo fermarlo qua ok pensavo che compriamo qualche cosa di fenice no che non si può mai sapere magari ci troviamo in difficoltà qua e ok tra l'altro stavo pensando che la mia futura serie che è in play comunque appena riesco a finire di fare una fenda di 7 remix stavo pensando comunque di iniziare comunque una serie gameplay su assassin grid 2 perché fino ad adesso nel mio canale non ho mai portato una serie gameplay su qualche assassin grid mi stavo pensando di quindi finita la serie quando riesco appena riesco a finire la serie gameplay su fa una fenda di 7 remix stavo pensando di iniziare una serie gameplay su assassin grid 2 che ora? è un talker no non non sei guarda non lo faccio non lo faccio vuoi vivere e andare fuori dalla stessa Ti ho capito boss, tu mai mai vedi la mia faccia di nuovo, dimenticare! Sei sicuro di questo? È un grande rischio. Lo so, ma... è ok. E loro? Non più. Cloud, tu mi spiega. Ok, andiamocene via prima che si riprenda. Io... Sono preoccupata di Johnny. Sono più preoccupato di noi. Dobbiamo andare, certo? Certo. Che? Che cosa? È solo... Tu ti cambiarono. Come? Credo che... Sì... I tuoi occhi... Sono più... È il Mako. Il soldato. Ricordi? Ricordi. Quindi... Che vuoi fare ora? Voi tornare al bar? O... Vuoi fare un altro lavoro o due? Ok... Non so... Devono tornare a settimo cielo oppure... Occuparci degli incarichi, non sapere... Eh ok, dai... Andiamo... And here we are. You must be... Same as you, I guess. Could use a little something to take the edge off. How about a refreshing cocktail made by yours truly, that you can sit back and save her? Tifa. Yeah, I'm feeling a bit too. Hey, do you think you'll stick around a little longer? Maybe. Work for a minute. They'll have some savings. I see. In that case, want to head back out and look for more gigs? Ok dai. Meglio di no perché... Cosa... Che so che siamo nella serie gameplay è meglio che... Did you... Have fun? Lots of fun. Hey, need you downstairs. Uh... Right now? Then the plan is... Marlee... Want to wait for Jesse out front? Ok. Che continua esclusivamente con la storia principale. Looks like we're officially on for tomorrow night then. Got to go over the details with the others. Before you do... Hey, get your money. So sit down and shut up until we're finished. Double time, Tifa. I'm really sorry, but it shouldn't take much longer. In the meantime... Grab a seat. For the rest... E' ok... Eh... Cosa? Possiamo guarda di... Ok dai... Cosa a di forte. E' ok... Non so... Cosa è lardo e lardo e il duro. Sii... Oh, chiamati eh... Oh, no... Cosa è lardo e lardo... Ok, a parte che sembra del piscio, ma vabbè. Ah, la specialità di Cosmo Canyon, intanto Cosmo Canyon la visiteremo in Final Fantasy 7 Rebirth, non so, credo che se riesco a finire la serie gameplay, si riesco a completare in un giro di qualche mese o di un paio di mesi la serie gameplay su Final Fantasy 7 Rebirth. Ecco, potrei anche comunque iniziare la mia prima serie gameplay anche su qualche Assassin's Creed e potrei comunque partire da Assassin's Creed 2. E' ok, credo che dovremmo andarcene. Tra l'altro, credo che qua è possibile giocare a freccette, se non mi sbaglio. Amici, affettate se freccette devi azzerare il tuo punteggio e meno tunni possibili. Sì, poi fino a tre volte premendo X, ok. Inoltre, comunque va bene, nella prima parte, quando avevo giocato in off-camera sono riuscito a battere Welge. Non so, potrei anche provarci. Anche se, credo che dovrei riprenderci la mano qua. Con le freccette. Ah. Se, credo che dovrei riprenderci comunque la mano qua. Inoltre, magari non fu male, potrei anche riprenderci la mano qua. Ok, perfetto. E' fatto un turismo. E' ok, dai. Infatti in solito è tu, li sto facendo. Ok. Ho sballato. Pensavo di aver mirato bene. E' ok. In cinque turni. Speravo di fare di meglio, ma va bene. Speravo di aver riprenderci la mano qua. Oddio. Non possiamo uscire fuori qua. Dobbiamo usare il... Cosa del flipper qua. Qua possiamo acquistare. La Gbox, puoi ascoltare la nuova? Sì, fatto. Parto per anche... Cambiare canzoni. Quindi dai, aspettiamo qua. E sediamoci. Sì, aspettiamo. Sediamoci su bancone. Cioè, sulla sedia, eh. Buonasera. Grazie. Mi sento che hai pensi secondi. Siamo che dovremmo pensare grande se ci fare una differenza. Ma non è così. Mi sembra... Mi sento presa. Se mi senti male, non lo faccio. Mi ricordo ancora che nell'originale Tifa ha delle tette pixelose. Nell'originale fa una fenda di set. Ti ha ancora. E mi so che dobbiamo andarci. Eccola la paga, finalmente. Questo non è proprio il nostro negozio. Siamo dovremmo chiesti di lasciare ora. Questo è una affare privata. C'è un fantasma. C'è un po' dopo che c'è qui, ok? Sì, è ok. Come on, Jesse, mi freddo qui! Ti vedo dopo. Scusate che ti freddi, ragazzi, aspettando. E andiamocene dai Dio Che miglia vogliono questi qua I guess no big man with a big gun strapped to his right arm Heardy set up shop somewhere in the neighborhood That depends Clever it's no an opportunity to make some scratch to you Five hundred Two hundred Three Whatever man It's fine somewhere quiet to talk Walk with me Oddio Ok mi sa che questi tizi non A parte che già si vede che non Questi tizi non Mi sembra che Siano tanto affidabile Li siamo attenti eh Si chiamano tizi rossi Te dobbiamo passare da qui sotto E ok mi sa che credo che si combatte Eh ok Immaginavo che si combatteva dai Fatte che questi sono delle medesere Quindi non preoccupate E sono pure debole a fuoco Dai Quindi me la pigliate nel culo Ok ha un solo colpo poi Eh ok andiamo a riportarci Oddio Jessie What the Oddio che sei iniziando ad affezionarsi a Cloud Jessie eh La materia Un'apologio per non Non mi senti a te Non mi senti a te O non Che pensi che sia? Una proposta Nelda in una I'm going to have to ask Che to keep all this Un segret From the others Though It's a personal matter Something I need To sort out tonight Tonight? Tonight You and me Together I want you to come with me To the sector 7 plate I'll give you the details On the way That's fine by me But Don't you have a pretty big day Ahead of you I do But If I don't deal with this now It's only gonna get harder Anyway I can count on you Can't I? Ok Questa è una Ecco La materia La materia Invocazione Quindi Adesso Possiamo Possiamo Invocare Gli Spera Dio Intanto Già inizio il gioco Ok Mi ricordo Che nell'originale Final Fantasy 6 Cioè Gli esper Comunque Possibile Sbloccare Però Però credo Che si Sbloccano Più in avanti Gli esper Nell'originale Final Fantasy 7 Mi chiedo Non so Se ci saranno Nuvi esper Ovviamente Vabbè Credo Che ci sarà Anche Odino Come esper Non fare FN7 Remake Anche Altri esper Che mancavano Su FN7 Remake Ok Potremmo Potremmo Terminare qui questo episodio non so potrei registrare un altro po' non saprei a parte che penso che so quasi per finire la serie gameplay anche su pokémon smerando credo finita la serie gameplay su pokémon smerando potrei sfrecciando nella notte grazie tu stai stando strano come parlando di una cosa quando stai ovviamente pensando di qualcosa di altro sì, e non mi spazio su tutto questo pep ok, l'ho dato ma come sai che volevo che volevo andare al topside stavo parlando in mio dormito cosa ancora ho detto? no, abbiamo solo pensato che volevo vedere i vostri bambini è tutto finito, no? sì, proprio sull'inferno quindi, a vedere che non abbiamo una famiglia di nostra cosa vuoi lasciarci essere parte di voi per un pochino sai, spiegare la famiglia è ok, si sale in sella di un pochi in pochi episodi siamo già al capitolo 4 ho trovato guarda, tu vedi la forma che l'hova era era molto grande, certo? perché di tutto il MAKO non è quello che hai detto? sì, era una pensazione esatto risposta ho saputo che è la mia peggia ho usato un agente più potente più potente che le direcchioni chiamate non aveva nulla con il Mako diciamo che sei certo quindi cosa? ho avuto a usare un agente più forte ma, da che non posso andare in contatto con il mio servizio nostra solo opzione è per lovare un'esmerito che è ownedo da Shimura Shimura? buona luce con questo è ok, si combatte no, proprio come questo? non bisogna preoccupare hanno un'esmerito, ricordi? oi, tu sai come si trattare, certo? i soldi devono trainare mandato allora, fai prendere la mia breath e rendere la mia mente con i nostri amici non giocare a me se si tratta è stato sicko bene abbiamo compagno qualcuno ha divertito come posso non un figlio giovane un uomo si tratta vai fuori ah oh ciao Eh ok dai, guarda che stiamo andando alla grande Scusate, è solo io o l'abbiamo scelto? Solo tu Ficino ridicoloso! Molto di loro! Credo che abbiamo scelto di più che possiamo fare! Cosa facciamo? Cosa facciamo? Scusate questo! Ok dai che ce la facciamo! Ma dobbiamo... Dobbiamo farci distrarre dalla scena da qua Dai che si fa anche la trovazia qua No, bene! No, bene! Dai! Che ne manca l'ultimo! Eccolo qua! Dai che abbiamo... Diciamo che abbiamo tolto di mezzo la scena, ne arrivano altri credo Che probabilmente ne arrivano altri Dio No, cerchiamo di andare più veloci possibili Eh, più veloci possibili Dobbiamo adesso Dobbiamo adesso ammirarli qua Dobbiamo adesso ammirarli qua Dobbiamo adesso ammirarli qua E' fuori uno Che uguale Da che... F mosolino Stefano non posso neanche impenna La miseria E' sempre stato bello Oh Non è che Jesse si sta innamorando di Cloud Dio quanti ce ne sono porca miseria stiamo attenti Dio Cioè non finisce mai il sogno di seguimento Ed eccolo lì Diciamo che si tratta come di una sorta di mini boss Oh Oh Well hello Sì 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 Scusate, non mi sono scoperto, non mi sono scoperto, non mi sono scoperto, non mi sono scoperto. Come si sentono? La ragazza di curiosità è stata riuscita. Il mio nome è Ril, ma potresti riusciti a me racconto. Mi anche! Scusi questo, mamma? Ha ha! Le mie ozze sono riuscite alla femenina voce. Questo giorno è il primo. Raga dobbiamo sconfiggere i soldier qua, li diamo a rush qua. Mi chiedo se si farà anche la... se farà lo suo compasso anche se può prendere 7 le birte. Raga ci siamo quasi. Raga lo sconfiggiamo a sto. Ok ce l'abbiamo fatta noi. Raga la moto dovrebbe essere... Poi io uso la sua moto. Raga. 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 Visto che roba. Poi! Alla prossima! Gosto che! Mi credo che questa rada è te lì! Ha! 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 Una volta che lasciamo qui... Gli due si? Ho! 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 E' fatti 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 E' fatti